Garanzia Giovani è il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro, offrendo opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro. La Regione Campania ha approvato il piano di attuazione regionale di garanzia giovani seconda fase, favorendo così l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. Numerosi datori di lavori pubblici e privati hanno aderito a tale programma presentando l'istanza di ammissione al contributo finanziario per il pagamento parziale dell'indennità di partecipazione dei tirocinanti e il programma è stato reso operativo tramite l'effettivo inserimento dei tirocinanti. Ad oggi, nonostante il tempo trascorso, sette mesi, una parte consistente di beneficiari dell'indennità inseriti nelle realtà lavorative non hanno ancora ricevuto i pagamenti con conseguenti notevoli disagi i suddetti ritardi contrastano fortemente con lo spirito del progetto Garanzia Giovani inteso quale strumento di garanzia per i giovani under 35 e di incentivo per la formazione e per l'inserimento del mondo lavorativo. Lo ha dichiarato in occasione del question time in consiglio regionale Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva. Pur conoscendo l'impegno e la sensibilità sui temi riguardanti la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani campani da parte del presidente De Luca e dell'assessore Filippelli, una burocrazia incomprensibile a determinato notevoli ritardi dei pagamenti. Tale criticità ci impone una serie di riflessioni sull'utilizzo dei fondi destinati a favorire l'inserimento dei giovani under 35 nel mondo del lavoro, ancor più se vogliamo avvicinarli a quel tessuto economico e produttivo campano che ci chiede tempi, celeri e certi. Probabilmente bisogna anche rivedere le modalità di attuazione di tale misura, certamente lodevole nelle intenzioni ma fallimentare nell'attuazione. Ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro vanno date risposte immediate certe. Tale ritardi determinano anche un disincentivo per le aziende che vorrebbero aderire al progetto di garanzia giovani determinando mancate opportunità lavorative per gli under 35 campani. Il mio auspicio è che si possano erogare al più presto tale indennità e intraprendere iniziative che possano incrementare il livello occupazionale nella nostra regione attraverso un'azione di semplificazione e sburocratizzazione, ha concluso il consigliere Pellegrino.